In questo periodo molte cavalle diventano difficili da gestire sia in scuderia che montate. Questi problemi spesso e volentieri sono causati da un problema del ciclo ormonale. Quindi bisogna intervenire somministrando un prodotto che lo regoli e che elimini i dolori collegati al ciclo. Un prodotto come Yama a base di discorrea messicana che è una pianta con proprietà riconosciute nella regolazione del ciclo e che vi risolve questi problemi. In bustine monodose predosate è da somministrare alle vostre cavalle in cicli da 21 giorni. Vi risolve i problemi perché regola il ciclo ormonale, l'ovulazione, elimina i dolori collegati a cisti o a spasmi muscolari collegati al ciclo ormonale. Yama per risolvere e migliorare la gestione delle cavalle difficili in questo periodo.